Vi ricordate le segnalazioni riguardanti le file interminabili nel punto tampone di Bassano del Grappa con decine di persone lasciate al freddo senza distinzione fra positivi, negativi e altri ancora in attesa di un risultato? Ecco, non solo non è cambiato nulla ma addirittura ne arrivano altre di segnalazioni. Un cittadino ci ha raccontato solo poche ore fa di aver portato un familiare a fare il tampone. Il malato presentava sintomi riconducibili anche al covid con febbre a 38 e dolori diffusi. Io sono rimasto fuori racconta la persona che ha portato alla nostra attenzione questo ennesimo caso nell'Ulse 7 Pedemontana e l'altra persona è rimasta in macchina per due ore. Sono cose incredibili, c'erano anche degli anziani in attesa e qualcuno l'ho pure mandato avanti. Le basse temperature di queste ore e le prospettive di un peggioramento del meteo pongono tutte le basi per una situazione davvero complicata al centro tampone di Bassano. Vorrei capire dove sono i vertici della sanità, chiede infatti il nostro telespettatore. Non si poteva installare una tenda riscaldata? Chiamare gli alpini o i militari? Ma che organizzazione è questa dell'Ulse 7 Pedemontana? Noi raccogliamo questa ennesima segnalazione che sottolinea una disorganizzazione in un servizio di grande importanza per il territorio e la giriamo a chi di dovere, sperando che prima o poi qualcuno decida di prendere in mano questa situazione.